Ok, ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua a questo primo video in Minecraft, siamo qua con... E siamo qua a fare il primo video, visto che non mi ha registrato l'altra volta, Orca Loggia Beh, vabbè non è che abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto sta casina e qualche attrezzo C'è esplosso già un Creeper a fianco a casa, abbiamo già trovato del carbone, scusate E beh, ecco qua c'è già uno scheletro che mi impunta, dai prendimi Eh che bello Io ti raggiungo perché da solo contro uno scheletro non ci sto Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ok Vuoi una mano? Io c'ho una spada E ho paura di usarla perché Wow, ma qua c'è una grotta e c'è anche tarto carbone Attento, attento Sei vivo? Wow Wow, ma io mi faccio un... ci facciamo un bel piccone di pietra Che dici? Ma io ce l'avevo un po' È esploso anche quello col Creeper Ah, io mi vado a fare stupico Eh, ragazzi ve lo dico subito, eh, la crafting table come muro l'ha messa... noia Ah! Sì, perché è più carina Sì, vedete, quel... tutto legno uguale, poi c'è, vedi la crafting table lì Come vedete è la casa più bella di Minecraft mai esistita So, tanti ci faranno video nelle top ten delle case di Minecraft con questa I need to... no, perché è scheletro mio? I want you Eh, eh... guai, lo scheletro te lo lascia tutto per te, visto che ti piace Ah, guarda! Te l'ho fottuto io il piccone Dove sei? Aspè, con calma, ora te lo do, ti vieni Vedete, ragazzi, come son bellino Cioè, c'ho anche il microfono che sto usando adesso per parlare Oh, c'è un ragno in lontananza Quindi, direi che Come disse il grande saggio cinese Scappare, scappiamo Scappare, vabbè, uguale È uguale Comunque no, ho sbagliato Non dicono scappare, ma dicono scappale Con la L Scappale Allora Dimmi, dimmi Io sono Ok Mashiro-kun Anche se tu ti chiami Bakura Sì, ragazzi, mi chiamo Bakura perché è il personaggino che ho Ah, è una lunga storia È una lunga storia, esatto Si poteva spiegare in due secondi, ma Per l'Oial è una lunga storia E tutto sto carbone mi... Oh, è chi, è chi, è chi Chi, chi 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 Io mi prendo un po' di 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 carbone Di barbone Così dopo ci si fa un po' di torce Io ho compiutato una parte di casa Manca solo due strisce Bravo E due strisce equivale a quanti blocchi? Ok, no, è un calcolo troppo Ok Tre blocchi per strisce Va bene Tre blocchi per strisce Quindi Sei Se la matematica ha un'opinione Vuol dire che è sei Madonna Io c'ho Io c'ho C'ho sei In matematica Se non sono bravo io che c'ho sei Che c'ha dieci Ma secondo te circa Da quanto tempo stia registrando? Non so Quattro minuti Se hai quattro minuti Veramente Vengo sotto a media E scrivo Sono un dio Ok Vabbè Saresti il primo commentatore di tutto Primo Sono primo Dove sei? Dove sei? Non ti vedo No Sono In caverna Sei Ah ok A posto Cioè dove ero io Due secondi fa Io mi vado a prendere un po' di legno Di legno legnoso Con Allora Trovate una caverna dove sta l'acqua Quindi tu non venire qua Fra me spingi Ma ora puoi venire qua Ora vengo Eh? Ora vengo Ah ok Allora intanto io con questa legna Ragashueli Direi che Direi che Ci faccio un po' di Stecchini Lui che è scomparso Ah forse è uscito due secondi Tutti No no Sono ancora su Skype però No Dicevo due è uscito dal Dal server Ah no no Sono su server Allora Gipsy Ora come rientro su server Sono stato fuori Sono stato uscito da un video Meglio di no Mi commetto 2.00 volte Wow guarda ragazzi Sono un genio Non so Sono un genio Avevo 32 di carbone Ho preso il legno a caso E ho 32 di bastoncini Ti regalo delle torce Le vuoi? Eh sì Ce ne abbiamo 64 per 1 precise Cioè ma Ragazzi sono un calcolatore Cioè praticamente Non sono neanch'io che calco È il mio cervello Che è talmente 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 distorto Ok Tieni 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 Le vuoi? Ecco E chi te l'è lì Tieni E fai sempre Chiudi gli occhi E fai tattolo Sto ceppa Non con l'occhio in mano però Ok Va così Io faccio un mini 8 Brava fai bene Perché io non lo so fare Eh mi serve uno sticchetto Uno sticchetto Non ce l'ho Te lo vado a prendere Te aspetta lì eh Non ti muovere Se Se Cos'è sto rumore Cos'è sto rumore Di tipo Un cane con la rabbia Te lo vado Non so Che si senti ora Ah ok Forse sei te che rompi l'erba Allora 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 Ti serve uno sticchetto? Sì Allora io te ne do 42 No Anche perché non ce ne avrai 42 Allora Tieni Allora Intanto io mi faccio Una speda Di ferro Eh sì Di pietra magari Di ferro Poi cosa mi faccio? Cosa Ho voglia di costruire oggi Eh non posso Quindi ciao Mi fai paura No Cosa mi hai scippato? No Mi hai fottuto i bastoncini Non so perché Forse l'ho messo Dove non dovevo Ma io vado a prendere Un po' di pietra Così mi faccio la Ci facciamo la fornace Anche la fornace La devo mettere contro il muro? No Eh come vuoi Io l'ho messo solo Per provvisoriamente Cioè per Lo spero Per provvisoriamente Io I'm 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 Non italianan Benen No Cioè non I'm You Io Eh sì Basta con sto inglese Io S S Cosa vuol dire? No Il tuo culo No Ma anche meglio di no Cioè se me lo proteggi dai creeper Sì va bene Però Ehm One Two Three Sai contare in inglese? Sì Ecco ne ho presi pochi Ma anch'io perché non conto? Perché non conto? Cioè Io vado a trovare un po' di miele Un po' di miele? Di miele o di mele? Miele Ah ok Allora Io da dove cavolo salgo qui? Ragazzi vi metto il link di Loyalux in descrizione Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti